Scusate, scusate amici, scusate, scusate, ho dovuto chiudere perché si era proprio inchiodato il gioco, inchiodato il gioco. Adesso creo la lobby io e vediamo un attimo se riusciamo a giocare tutti quanti insieme amici miei. Guardate oggi il drago che sputa fuoco, incredibile, incredibile oggi ragazzi il drago che sputa fuoco. Ok, connessione al server. Ciao amici, scusate per prima perché ho dovuto riavviare il gioco, purtroppo, purtroppo perché si è inchiodato. Grande zone boy, mitico, ciao a tutti ragazzi, ciao, benvenuti. Allora, pomeriggio tra amici, dalla griglia più veloce. Nessun limite, ok. Andiamo su, solo amici, crea stanza. Ciao amici miei, scusate per prima, ho dovuto riavviare la live perché purtroppo si era inchiodato completamente il gioco. Non usando OBS dalla Playstation, quando voi chiudete il gioco praticamente chiude tutto. Ok, allora amici miei, Maurizio, Kevin e Phil, quando volete entrate pure nella lobby che l'ho creata. Se la creo io e la lobby, in un secondo funziona tutto. Se invece la crea l'amico Kevin, non va. Dobbiamo capire sta cosa. Allora, voglio andare a provare il settaggio di questa Huracan. Allora amici di Twitch, quando finisco questa live voglio fare dei video per i settaggi, eh raga? Voglio specializzarmi in video settaggi del Gran Turismo 7. Farò dei video fatti bene. Vediamo un attimo. Ciao amici, benvenuti, ragazzi. Allora, con questo settaggio voi vi trovate bene, avete detto, eh? Effettivamente non fa più le cose strane, eh? Che fa questa macchina? Ah, devo ricordarvi di mettere le macchie io, no le manuali. Vediamo con le manuali quanto ci mettiamo al giro, perché l'amico Kevin è arrivato a due minuti. Allora, io ho fatto 1,58 adesso. Quanto? 1,58.0.3. Eh, l'ho visto. E io mi sa che dovevo andare pure io con la G3. Perché non riesco a abbassare il 2,3? Eh no. Hai detto che l'avevi settata la G3? E io po', che cavolo sono entrati. Prima hai fatto il settaggio? Almeno. Se non l'ho capito male, l'avevi fatto il settaggio anche della G3. Sto per fare 1,57. Sì, sì, entrate, entrate. Io ho fatto 2,01, un giro così a caso, proprio, partendo dai box. Oh, come è il Garnbele. Adesso ho fatto 1,57. Stavo per fare, parola. Perché stai per fare? Perché sei... Eh, sì, parola più di più, perché poi siamo passato da te. Ah, ok. Allora, adesso mi sono rimaltato, eh. Perché comunque, ragazzi, il settaggio non può farvi stare in piazza. Se andate sull'erba... Penso che non c'è nessun settaggio che vi tiene in strada, eh. Questa è una cosa scientificamente provata, credo. Eh, Phil? Sull'erba non c'è niente, non c'è settaggi che tendono. Ciao amici di Twitch, benvenuti, ragazzi. Oh, zitto, zitto. Sei entrato? Sono entrato. Oh. Io ancora no. Eh, non dirmi che... Ciao Sharder! Oh, ma cad'è che vieni? C'è Sharder, ragazzi. Beh, da parco, si mette un po'. Vai, vieni, ti stavo aspettando, Sharder. Mitico. No, vieni, ci si è vero che lui mi ha rotto. No, ma perché? E tu invece, Kevin, sei riuscito ad entrare? Sì, sì, da andrando. A te invece, Maurizio... Arriva, arriva anche Sharder. Forse adesso, vieni. Sto cercando di andare. Provate magari più di una volta. Sta arrivando anche Sharder, eh? No? Sto cercando di andare. Che palle, che palle, ragazzi. Puoi provare a farla tu, magari? Andiamo aciarvi a Sharder. Grande, mori. Grande, Maurizio. No, no. La roccia qua. Sto cercando di andare. Ma perché ha fatto entrare adesso Kevin? Non fa il trapio nel suono. Guardando la partenza della Formula 1. Ma lascia... Ciao, Lucy Lux! Grandissima! Ciao, amica mia, mitica! Oh, ragazzi, salutate Lucy Lux! Grandissima! Ah-ha! Oh, sei arrivata! Come sono contento! Sto benissimo, sto benissimo. Sono insieme gli amici. Il mitico Maurizio. Il mitico Kevin. Il mitico Phil. E adesso arriverà anche Sharder. Andiamo a divertirci un po' a giocare così un po' online. La mitica Lucy. Io voglio fare una mega live con te, Lucy. Dobbiamo fare una mega live! Sì. Sì, allora, io... Ti dico subito, Lucy. Allora, praticamente... Sai perché sono una brava persona. Ti faccio vincere. Ti faccio vincere gli amici della stanza, eh? Ti faccio vincere. Quindi, non è... Se mi vedi che esco fuori, magari... Sì, sì, dobbiamo farla, Lucy. Dai, 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 ci divertiamo, ci divertiamo. Una bella retro gaming o qualcosa del genere, un Fortnite... una qualche bella live. Amor, guarda che è entrata Lucy. Salutala, vieni qua dietro. C'è anche mio figlio. Ma vieni dietro, fatti vedere. Salutala proprio. Ciao, Lucy. Ciao, Sharder. Ciao, Maurizio. Ciao, Maurizio. Saluta Maurizio. C'è Kevin. Non è vero, Lucy. Allora, tu devi capire, Lucy, che Sharder gli devo bucare le gomme quando entra dentro, eh? Perché va troppo veloce. Eh, sì, sì. Bisogna bucargli le gomme a Sharder. Quindi lui adesso entra, ma lui non lo sa che farò finta di avere un problema tecnico che non può entrare con noi a giocare. No, non è vero. È che davvero ci sono problemi tecnici. Non riuscite a entrare, raga? Io ancora non ho. Vuoi provarla a fare te, eh? Io non riesco a entrare neanche. Neanche te? Allora, vuoi provare? Allora, io prima sono entrato con Maurizio. Allora, questo qui, Lucy, è Gran Turismo 7 sulla PlayStation 5. È un'esclusiva PlayStation. E ci sono un po' gare e un po' di tutto. Sì, c'è anche la Formula 1, ma siamo più incentrati. Guarda, ti faccio vedere la macchina. No, ma... Questa qui è una Lambo, una Lamborghini Huracan. E va davvero forte. Davvero forte. Però stiamo cercando di fare la stanza in tutti insieme. Vedi, vedi? Bella, eh? Anche graficamente spettacolare questo gioco. Ehm... Ci riprovo, Bobo. Dai, la Crea Sharder. La Crea Sharder, grande. Dai, 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 Sharder. Su, creala così riusciamo a giocare insieme. Anche perché il grande Maurizio non è che può star qui tantissimo. Io mi preoccupo per lui perché... Maurizio, non voglio tenere... Per la pizza. Ehi, c'è, cazzo. E andare a aprire il locale. Ok. A me prima sulla scritta GT mi ha tenuto lì tipo 5 minuti e ho dovuto riavviare. Bella lì, grandissima Lucy. Che piacere che mi fa che sei venuta. Non c'è verificato un errore. Dai, la prova a far Sharder. Sharder, fai... Sì, aspettiamo Sharder. Sharder non ti fa entrare. Falla tu. Sì, dai, Lucy, dai. Sarei veramente onorato e comunque felice di farla. Così faccio anche una live un po' diverso. Una 58, vai. Oh, grande. Senti parola, grandissima Lucy. Dai, poi organizziamoci una sera o che la fai già tu o una sera extra, eh Lucy. Così tu hai le tue programmazioni. possiamo fare martedì o giovedì o un sabato o la domenica. Insomma, quando vuoi facciamo una mega live. Una mega live a qualche gioco che decidiamo, eh. Dai, dai, dai. Ti aspetto. Su Discord. Ok, ok, ok. Ci sto, ci sto. Discord non lo uso mai perché è un bordello. Però posso anche imparare a usarlo. Posso anche imparare a usarlo. Devi passarmi il canale, eh. Discord. Io ce l'ho comunque. Sono Marco Drums Games anche su Discord. L'ho creato. Come ho creato tutti gli altri social. Anche Pinterest, per dire che non so neanche che cos'è. E WeChat ho fatto anche. Tanto per essere su social dappertutto, eh. Ok, dai. Dopo allora dal Messenger passami il canale Discord che noi ci organizziamo. Poi se più gente c'è, meglio, eh. Ce la facciamo le cose stessie. Delle mega live. Incredibile. Poi magari c'è anche mia moglie, Carla. Oggi non può perché sta lavorando, ma c'è anche lei, eh. C'è anche lei. Allora, Kevin ha fatto 1,58. Kevin, 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 Kevin. Io ho fatto 2,01. Se guido bene, dovrei fare ancora 5,57. Ma guida anche un troppo bene oggi. Eh, ok? Guida anche non troppo bene oggi. Fai domani quel tempo lì. Allora, praticamente, Lucy, il... Allora, diciamo, per guidare bene bisognerebbe guidare da dentro, eh. Adesso stiamo aspettando un mitico Charger che magari se entrasse anche nel party così riusciamo a... No, no, non mettere i limitatori, i limiti. Tanto siamo tutti più o meno con la stessa macchina a 750, Charger. Ma non è che metti solo amici e non siamo tutti amici e non riusciamo a entrare. No, perché se lui la fa, io poi lo vedo e tu entri da me. Eh, io sono qua con sto giro giro e non riesco a entrare. Gira giro e basta? Io lo sto spiegato tra tre alla stanza. No, vediamo a Charger che l'altro giorno l'abbiamo fatto con Charger. Oh, se poi non riusciamo ragazzi farò la telepronaca della gara da fuori, non so, boh. Oh, Charger la creata usciamo subito. Riuscire a entrare. Allora usciamo, Charger ha creato dai 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 creata, creata. Grande Lucy, grandissima, vedi grandissima, mega, mega, mega. Sempre sul pezzo Lucy, grandissima. Che bello che lo dice. No, ma Charger è un po' l'ha fatta, l'ha fatta? Sì, ma leggi cosa ha scritto. Non ho letto. Cos'è che ha scritto? Eh, dove legge. Eh, no, no, non si può, non si può. Allora, di solito porto i giochi recenti. Allora, Gran Turismo è il mio proprio gioco di punta. Poi porto, non so, Returnal, poi porto Dean Light 2 che è quello degli zombie. Poi porto, perché i titoli non è che me li ricordo tantissimo. Horizon Forbidden West è quello della mitica Aloy. Poi ho preso Ghostwire Tokyo che è quello con le manine. E poi ho preso anche l'ultimo che non mi... Tina Tina's Wonderland. Diciamo che sono questi. In più, col mitico Morris che qui dentro nel chat c'è il suo grandissimo che va fortissimo in macchina che è Maurizio. Portiamo Warzone. Warzone, Warzone. La sessione è scaduta. Ragazzi, io non posso assolutamente giocare con voi e la cosa mi fa veramente arrabbiare. Voi siete entrati? Io sono entrato. Ok. Eccolo qua, Morris. Grande, grande, Maurizio. Io non trovo proprio la stanza. È perché non siamo amici in PlayStation e quindi non la vedi ancora. Ami Warzone. Perfetta, perfetta, Lucy. Allora giochiamo a Warzone. Se ci sei lunedì fammi sapere, batti un colpo. Se no, quando poi puoi. Ok? Perché lunedì già giochiamo con Morris. Almeno a regola dovrebbe essere più o meno che c'è anche lui e poi tutti gli altri gli amici si aggregano un po' alla volta. Allora, a me non fa entrare ragazzi, eh? è incredibile. Non so che dire. Grande, Maurizio. Morris dovrebbe essere così, così mi piace, così mi piace vincere facile le partite. Phil è riuscito a entrare. lo so, è tutta una battaglia Sharder. È una battaglia perché no, niente. Allora, non so che cosa dirvi sinceramente ragazzi. Voi, allora, loro sono dentro di lì. ok, vuoi venire magari Maurizio tu da me e facciamo non so due stanze diverse non lo so almeno facciamo facciamo vedere un po' ai ragazzi in live qualcosa di interessante se no stiamo tutto il giorno qui a cercare di entrare nelle partite e non riusciamo a correre e a divertirci sinceramente. E se prima di volte è triangolo e può provare di entrare. a me non devo aspettare il plus quanto più la giornata può giocare. Sì, 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 amica mia. No, no, non è questione di aggiornare mi entra poi mi fa così devo anche disattivare la live perché mi si blocca. Allora, facciamo così Sharder c'è dentro Phil, ok? No, l'ha chiusa la stanza. L'ha chiusa, ok. Allora, provate non serve. Ah, Morris dice che non serve per Warzone il plus, eh? Mitica Lucy. Allora, Maurizio, provo a vedere se riesce a entrare. Allora, ho chiesto a Morris e mi ha detto che non serve il plus. Ah, Morris ha detto che non serve il plus, eh Lucy. Per Warzone no. Quello è gratis, grande, oh, ringrazio a Morris, grandissimo, 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 grande Morris. dai, 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 dai Lucy che ci facciamo una mega warzonata, una mega warzonata. Poi magari spara anche mia moglie che magari è anche più brava di me che è la parente. Non è che sono tutto sto bravura di Warzone. Mi bruciano anche gli occhi, mi bruciano, solo a pensare a Warzone. Allora, io vedo quattro persone che stanno entrando. io sto cercando di entrare. Ecco, niente. Il regamento di T7, il simbolo. Vediamo cosa dice l'errore. Madonna ragazzi, ma che stress. Ok, ha buttato fuori tutti. Allora, aspetta, proviamo a fare una alla volta. Prova Maurizio tu a entrare. Una alla volta ragazzi, scusate. Prova Maurizio. Quando entra poi proviamo uno alla volta. Non penso che cambia. Perché guarda, Phil è entrato, abbandonato. Maurizio è entrato, abbandonato. Solkir è entrato, abbandonato. Shard è entrato, abbandonato. Assurda sta cosa, capito? Ma solo a te quei problemi. Che fra noi siamo riusciti. Non provando ad entrare, ma nulla. Niente pro. Sono entrato. Aspetta. Io vedo che so che è molto bello il nuovo Gran Turismo costa anche abbastanza. Sì, 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 Lucy. Allora, se ti piace che vuoi giocare, ok. Se no, vieni a vedere le nostre live, Lucy. Tanto noi siamo live perennemente, 76 ore al giorno, non è vero. Dalle otto e mezza in poi. E vedi le nostre gare che sono fichissime. Tra l'altro, io ho 12 milioni, dopo vado a comprare una macchinetta da 9 milioni e mezzo, così poi dopo spegniamo un po' di soldini. Spegniamo un po' di soldini. Adesso stiamo... è un po' noioso, scusami, ma purtroppo allora la... Ah sì, grande, è vero, è vero. Vedo che è attiva, Lucy, grandissima, Lucy. Grazie, grazie di essere venuta. Aspetta che mi devo pettinare, Lucy, mi petti. Ora PS4, dopo varie truffe, finalmente l'ho avuta. Sì, infatti, perché poverina doveva andare dal fratello, l'amica... Sì. Oh, mi sono pettinato, eh, guarda, c'ho qui il pettinino... Qua dicono, qua dicono, per ospitare che bisogna cambiare il DNS primario da 888, sì, il primario 888, secondario 888, 444, e il ms1, 1.400. Ti faccio vedere, ti faccio vedere... se uno lo sa fare, ci può ospitare, in teoria dovrebbe andare qui. È molto, si lo voglio. Prova a fare quello, dai. Prova a farlo tu, Kevin. Intanto, provate ad entrare da me a vedere se riusciamo a... a fare la baradana. È questa, Lucy. HD60S Plus. ti consiglio questa qui, dall'Elgato, che fa praticamente il 4K pass-through, quindi praticamente vedi perfettamente sulla tua televisione. davvero, Maurizio, madonna, che bello. Marco, ce l'hanno regalata una fiera. Dai! Che figata assurda. Provate ad entrare voi, raga, comunque, intanto che Kevin fa quella baradana. Dopo ti mando la foto. Sì, 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 dai, dai, dai. Oh, io sto aspettando la foto del tuo locale e quello da fuori, perché da dentro l'ho visto dal sito, però... se eravamo vicini, se eravamo vicini, amico mio, Maurizio, tu avresti, ti saresti pentito di avermi fatto vedere che c'erano quei piatti lì nel tuo locale. Ero sempre li a mangiare. quando vuoi scendere. Mi costa un po', mi costa un po', quel panino. Comunque, il server di Google ce l'ho. Ciao, boss, ciao, mitico, grandissimo, grande, grande per essere venuto, grandissimo. Dai che ci divertiamo un po'. Adesso è un po' un casino perché non si riesce a entrare, non riusciamo a creare una stanza. Grande, lui, sì. Ciao, Morris, boss ti saluta. ok. Ah, grandissimo Morris che è dentro, grande, grande, grande ragazzi. Allora, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi ragazzi. E se volete giocare con me, mandatemi il vostro di Zera PlayStation. E se volete mandarvi qualcosa di più, vi do anche il mio IBAN. No, scherzo, ma sto a buonamento. Io non chiedo niente. Dai, vediamo, quando morite serenamente con te? Su COD. Lunedì, lunedì. Boss, lunedì. Ti aspettiamo lunedì sera, lunedì sera, 8 e mezza, Call of Duty, con il grande Morris, con il grandissimo Marco Drums Games, e con i grandi Pippo, e non so se viene Lord o Sharder, adesso poi vediamo. E poi, boss, ti do una novità incredibile del canale, che ci sarà anche Lucy Lux, che è qua con noi oggi in chat, grandissima, è venuta a trovarmi, e vogliamo organizzare una mega figata di... Marco? Sì. Forse, forse che ho scoperto il problema. dimmi tutto, risolvilo, perché è mezz'ora. Io avevo postato... eh. Il DNS di Google. Ok. 8.8. Sì. Molto tolto, tutto automatico. Ok. Emo proviamo. Però anche gli altri stanno cercando ad entrare da me, non entrano, sono io allora che ho un problema. Devo andare anch'io dopo a far quella roba lì. Eh beh. Ciao Fede, ciao Fede, grande Fede, grandissimo, ciao Fede, benvenuto, benvenuto in questa domenica fichissima, ma che andate a guardare la Formula 1, ma cos'è sta Formula 1, fa schifo, andate a guardare la MotoGP, ma lasciate stare, vedete da Marco Drans, che ci passiamo una bella giornata con Gran Turismo. Fede, Fede, saluta Morris, grandissimo. no, è possibile che, no, 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 c'è il suo mega papà, Maurizio, 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 lo trovi, Fede, lo trovi lunedì, domani sera lunedì, sì, purtroppo è già lunedì domani, domani sera il grandissimo Morris, con me in Worldzone 8 e mezza, ti aspetto, ti aspetto Fede. Anche perché poi, stiamo organizzando una mega live fichissima, con Lucy Lux, che è qui con noi presente oggi, grandissima, e facciamo una mega warzonata, eh, bellissima, tra i tre video. Io non lo so, ragazzi, cosa possiamo fare. Allora, io creo la lobby, proviamo. Prova. Allora, Lucy, Elden Ring è bellissimo, è difficile, quanto, quanto serve, perché Elden Ring non deve essere facile, però ti dico la verità, allora, portandolo su Twitch, non ha funzionato praticamente niente, non c'era dentro nessuno a vederlo, perché chi, sì, sì, beh, sono sempre loro che l'hanno fatto, eh, perché praticamente, eh, come si dice, creato, è creato, è creato, ok. Io non riesco a uscire neanche più dalla stanza. No, ti ha bloccato tutto? è creato, è creato, non è vero, allora, stiamo organizzando, ragazzi, di far poter vedere il video del grande Morris sulla mia live, con OBS, ma è un po' un problema da configurare, non so se basta solo una configurazione, o se il mio computer è scarso che fa andare a scarti, perché scatta, purtroppo, ho fatto una live e andava a scarti, ci organizzeremo, ma pian pianino arriva a scarti. il router è un 100 metrissima ogni 7 con 16 giga di ram fammi capire un attimo cosa devo usare per fare uno streaming è un portatile non è un fisso quindi già è limitato di suo ok, voi state entrando? no, io devo scoprire ok Google mi ha messo qualcosa che bella postazione oh grande 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 ok, Sharder ha creato la stanza proviamo ad andare, se no ragazzi passiamo tutto il giorno così a cercare di fare la stanza Sharder? Sharder? io no ma è Marco Dranz with friend sei tu? ok ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi oh, allora mi ha trovato subito, subito provate ok ha scoperto il problema vediamo vediamo lunedì lunedì ti voglio alle 8 e mezza 8 e mezza ma 8 e 30 già dentro alla live quando ancora non è partita allora, sta girando raga quindi non è una buona cosa forse sono andato forse sono andato ma con c'è si 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 grande grande vediamo come riusciamo a farlo allora voi giocate ragazzi perché sennò non giocate a niente e io cerco di entrare dai facciamo così ok, va, va, va perché sennò non riusciamo ad entrare tutti insieme raga Sharder è entrato sei riuscito ad entrare? mi dico Sharder? non riuscito a entrare la facciamo io e te e facciamo io la stessa gara contemporanea e commentiamo una gara indifferita e l'altra un casino incredibile una cosa mai provata prima tra l'altro Lucy io ho anche le marce qui con le manuali eh è fichissimo dovrò fare anche una foto è un casino eh perché lo sto usando con la mano sinistra normalmente le marce ce le abbiamo sulla destra tengo l'amicizia sua si però puoi entrare da Phil se tu adesso cerchi mostra stanze ti dovrebbe fare ehm vedere la stanza dove dentro Phil eh ma poi passagli l'amicizia a Kevin intanto giochiamo sempre insieme ti è entrato? allora a me gira gira a me gira Sharder dovrebbe entrare adesso perché non trovava la stanza ma se è entrato Phil dovrebbe dovrebbe entrare voi siete dentro? voi siete dentro? si siamo tutti dentro eh ma come sei entrato? ma solo io non riesco a entrare anche Sharder ma dai ma Lucy caffè più dolce più live caffè più dolce più live grande Lucy davvero ma dai incredibile sono io lo youtuber non riesco a entrare nella partita per farvela vedere devo giocare da solo ma non ci posso credere tutti gli altri stanno giocando come un cane come un cagnolino come la mia Olivia dov'è Olivia? non c'è? Olivia? c'è anche il cagnolino eh l'Olivia bellissima lei viene qua sempre di fianco allora e niente secondo me si è anche bloccato e quindi dovrò anche rifare la live si a posto proprio era ben posto se devi rifare la live scusa eh non puoi stare chi buco le gomme esatto 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 bravissimo bravissimo Sharder è una cosa che non è fattibile 1 e 54 però è via ma tu dov'è che hai fatto sta cosa Kevin? scusami dal modem la minuta ha passato i 3 secondi finalmente oh grande Maurizio allora posso arrivare pure io là si si ma dove l'hai fatto Kevin? l'alco maggiore no da dove hai fatto l'impostazione? ah dove metti la linea di internet wifi che puoi impostare ma dentro la playstation 5 o sulla linea del modem? scusa si 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 dalla play ah invece di mettere impostato automatico si metti tt in s888 come ha detto e l'ha fatto subito? no io ho messo automatico tutto prima la prima la così poi l'ho tolto ecco 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 si beh ma dai ma non è possibile c'è anche inchiodato no no aspettate dai sblocca il gioco c'è non ci credo Lucy Luxe non va mi viene da piangere dai dai no si è pure inchiodato ma perché ti devi inchiodare il gioco? fammi dimmi che non posso farlo ma inchiodarti che gira 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 anche il drago si sta arrabbiando guarda Lucy anche il drago si è arrabbiato fa fuoco dappertutto questo non c'era ieri eh l'ho fatto stamattina cartonato del 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 fuoco bellissimo il cartonato del fuoco ok dai allora amici miei che siete in live esco rientro immediatamente rientrate per cortesia della live ok? esco e rientro immediatamente perché purtroppo si è inchiodato esco e rientro eh vi aspetto subito vi aspetto subito dov'è che...